Un concerto indimenticabile che ha fatto vibrare il pubblico di emozione. Massimo Ranieri domenica sera alla Versiliana si è fientemente intrecciato le sue magistrali performance con brani iconici, offrendo un'esperienza musicale unica e coinvolgente. Il pubblico, teatro esaurito, ha accolto con entusiasmo ogni nota e ogni parola del cantante napoletano, dimostrando un'ammirazione senza pari per l'incredibile presenza scenica che in certi momenti ha catturato l'essenza ora del grande Eduardo, ora di Totò, ora di Renato Carosone. Infatti non è mancato, l'omaggio al grande Renato, l'indimenticabile interprete delle canzoni napoletane. Il pubblico non ha lesilato elogi e applausi per l'eccezionale performance di Massimo Ranieri e la sua band è composta da dieci elementi. Il concerto alla Versiliana è stato un trionfo di emozioni, talento e passione, dimostrando ancora una volta di essere un vero e proprio tesoro nazionale, in grado di incantare e coinvolgere il pubblico con la sua presenza scenica e la sua voce inconfondibile, un'esperienza da ricordare e da raccontare, un inno alla grande tradizione artistica italiana. di gastarmene da solo